Se non guardo va a casa, è logico che per noi comuni mortali ha cose per i riferi, ma non per i nostri amati politici che si contendono di portare l'ars. Tutto ciò sta a vedere se le alleanze tengono tra PD e LPD, PD e UDC e magari i dati dei valori e il territorio dovrà andare a collocarsi. Saremo a vedere una cosa in particolare che vi voglio segnalare è che in una serie delle politiche attualmente ci sono le lette pronte sul desktop, manca la firma e il nome dei candidati e poi tutto ciò è pronto. Alla prossima!